solidarietà dalla cantina produttori di Cormons che in tempo di coronavirus ha deciso di sostenere la protezione civile devolvendole una parte dei ricavi e allo stesso tempo ha attivato per i dipendenti un'assicurazione ad hoc i dipendenti sono una risorsa afferma il presidente bregan perciò abbiamo attivato un'assicurazione ad hoc che prevede un'indennità da convalescenza e una diaria aggiuntiva in caso di contagio da covid-19 ed inoltre eroga un pacchetto di garanzie e assistenza per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare in periodo di emergenza infine il cda ha deciso di sostenere la protezione civile sia quella di Cormons devolvendole 5 euro per ogni confezione pasquale venduta sia con il ricavato di un'asta abbiamo pensato di aiutare anche la protezione civile nazionale spiega filippo bregant mettendo in vendita su ebay una collezione completa del vino della pace dal 1985 al 2012 quasi 70 bottiglie con altrettante etichette di artisti famosi grazie